abbiamo vinto il premio digital 360 awards nella categoria cyber security e per noi questa è stata una bellissima esperienza che ha coronato in un certo senso tanto lavoro negli ultimi dieci anni soprattutto il riconoscimento da parte dei ciso di quello che è stata la visione che abbiamo avuto molti anni fa nella realizzazione di tecnologie totalmente italiane per la cyber security che nascendo dal mondo militare oggi sono state portate anche a favore delle aziende civili e delle infrastrutture critiche nazionali questo sarà sicuramente stimolo per poter continuare a dialogare con i ciso e trovare nuove soluzioni sempre più aderenti alle loro esigenze grazie a tutti grazie a tutti